Bentornati, benvenuti a questa seconda conversazione, direi, di questo curioso ciclo. Io credo di dover sempre un po' premettere che non è un ciclo necessariamente sulla poesia italiana e che io non sono uno storico della letteratura italiana né un critico letterario. La mia provenienza e il mio ambito sono quelli musicali e quindi sotto un profilo musicale, da una prospettiva che è musicale, esamino la poesia, alcune cose della poesia italiana, alcuni episodi, alcuni elementi, alcuni personaggi, alcune esperienze molto importanti. Come vi avevo già spiegato la prima volta, andiamo a ritroso, cioè cominciamo dalla fine e andiamo verso quello che non è un principio, perché se dovessimo terminare con il principio della poesia italiana dovremmo arrivare alla scuola siciliana della corte di Federico II e affondare ancora indietro ai primi esemplari di poesia italiana, ovvero di poesia in lingua volgare in Italia, soprattutto nell'area dell'Italia centrale, centro-meridionale. ma ci fermeremo invece a uno dei secoli più interessanti e forse più belli del connubio tra poesia e musica in Italia, ovvero il 1600 che è anche il secolo dell'opera. Oggi passiamo per un poeta che è certamente tra i più importanti della nostra letteratura in generale e che è certamente anche tra i più significativi di tutto il Novecento, non solo in Italia, ma direi nel mondo. Un secolo, il novecento, che ci ha regalato, per così dire, molte voci poetiche significative nella letteratura italiana. Pensiamo soltanto che vi piacciano o non vi piacciano, che ci piacciano o non ci piacciano, sono comunque presenze molto importanti anche a livello europeo e a livello mondiale. e pensiamo a Gabriele D'Annunzio e anche al suo impatto molto forte sulla poesia e sul teatro francese, ma anche su tutta l'estetica dell'inizio del secolo, dell'inizio del Novecento. E' una produzione poetica immensa. Pensiamo al contrario assoluto all'irruzione sulla scena del futurismo, Filippo Tommaso Marinetti e anche molti altri, che poi prenderanno strade completamente diverse, quali, ad esempio, da un lato Luigi Russolo, con la sua Poesia dei rumori, che è molto anticipatrice di tante cose che ritroviamo nell'avanguardia mondiale del secondo dopoguerra, e al lato opposto, ad esempio, Giuseppe Ungaretti. E poi troviamo per l'appunto lui, Eugenio Montale, che pubblica la sua prima raccolta nel 1925, Ossi di Seppia, poi troveremo Salvatore Quesimodo, Umberto Saba, Attilio Bertolucci. I nomi sono veramente tanti, fino ad arrivare ad Andrea Zanzotto, che ho in parte, sono in parte, affrontato da un'angolazione particolare la scorsa settimana, ma per andare avanti anche con i viventi. Insomma, il Novecento conferma una volta di più che la letteratura italiana è ricchissima, è vivissima, è interessantissima, estremamente, scusate tutti i superlativi, ma sono tutti giustificati, è centrale nella scena letteraria mondiale, soprattutto per ciò che riguarda la poesia. E questa, direi che curiosamente, è un po' una caratteristica generale della letteratura italiana, dai suoi esordi fino ad oggi. Eugenio Montale. Eugenio Montale l'ho voluto definire un baritolo fallito, ma non l'ho definito io. Si definisce lui un baritolo fallito. Ora, come prima cosa vi invito, non era una butade di Montale, c'è della sostanza, c'è della carne dietro questa strana autopresentazione di un poeta che, in definitiva, nel 1975 ha vinto il premio Nobel per la letteratura e che fu nominato per meriti culturali senatore a vita. La nostra Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa nominare fino a un massimo di cinque senatori a vita per meriti in vari cambi. Ovvero che nel Senato vi possa essere un massimo di cinque senatori a vita. Eugenio Montale fu uno di questi, credo uno di quelli che ha servito più a lungo come senatore, perché ha fatto, se non sbaglio, quattro o cinque legislature fino alla morte. Iscrivendosi solo una volta al gruppo misto, invece in tutte le altre legislature si iscrisse sempre a un gruppo politico, perché non aveva assolutamente alcuna remora a dichiarare quale fosse la sua simpatia e la sua ideologia. Fu sempre dentro il gruppo del Partito Liberale, un partito, il nome dice tutto, ma in Italia una collocazione particolarmente moderata, ebbe perché è un partito che non esiste più, quando il partito fu sciolto si passò al gruppo repubblicano, un gruppo molto simile per caratteristiche e ideologia. Anche il partito repubblicano praticamente non esiste più. Ma oltre a questi meriti, Montale vide tutta la propria vita, che fu una vita molto ricca, una vita di giornalista, di recensore, di critico musicale, forse la sua attività preminente, a parte quella di poeta, di traduttore, un uomo in grado di patroneggiare tranquillamente tre lingue e di tradurre in maniera splendida da due, molto aggiornato su tutto quanto accadeva nella letteratura mondiale, fin dagli esordi, e di quanto accadeva nella cultura mondiale. Dicevo la mutante di dirsi un baritono fallito, ma effettivamente lo era. Non so se è mancato, cioè non è mai divenuto un baritono, o fallito, nel senso che non era un buon baritono. Montale con il suo distacco ironico giocò molto su queste cose. Ora io vi prego di immaginare una scena. Immaginate di essere negli anni Sessanta, a Milano, nella redazione del Corriere della Sera, a Via Solferino, il più importante quotidiano nazionale, allora ma anche oggi, e di essere un giornalista che risponde al nome di Indro Montanelli. Era considerato una delle figure più importanti del giornalismo e della scrittura in Italia, anche se scrisse saggi, non scrisse mai letteratura. Era un uomo piuttosto vulcanico, toscanaccio a pieno titolo, con una voce bassa, amante della battuta, molto innamorato di se stesso, della propria presenza, alto, praticamente non mangiava, magrissimo, molto austero. Entra nella propria stanza in redazione e vede che il suo compagno di stanza si lancia in questa cosa. Scusate. Il padre del suo sorriso D'una stella vince il raggio L'amore in fondo 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 Il tuo sguardo La tempesta Del mio cuore L'amore, l'amore L'amore, l'amore Le favelline Il mio famore Sperda il sole Il tuo sguardo La tempesta Del mio cuore L'amore, l'amore L'amore, l'amore Le favelline Il mio famore Sperda il sole Il tuo sguardo La tempesta Sperda il sole In un suo sguardo La tempesta La tempesta Del cuore Del cuore Naturalmente non fu questa la voce che Indro Montanelli sentì a metà degli anni Sessanta. Eppure secondo la sua testimonianza fu una esecuzione impressionante di quest'area, l'area più importante per Baritono che c'è in un'opera di Giuseppe Verdi titolata Il Trovatore, il balen del suo sorriso. Il Conte di Luna è praticamente l'unico grande cantabile, per essere più precisi, il Conte di Luna all'interno dell'intera opera. Il Conte di Luna è la figura negativa per eccedenza nel Trovatore di Verdi, anche se poi l'opera ne svela dei lati terribili e sconosciuti, terribili per lui, non solo per tutti gli altri protagonisti. Questa è una dichiarazione di amore immensa per la donna Leonora che invece è nata da Manrico e ama, contraccambia tale amore. Manrico il massimo rivale del Conte di Luna, se non che poi si scopre alla fine dell'opera quando il Conte di Luna fa eseguire, fa condanna a morte e porta la condanna a esecuzione di Manrico, si scopre che Manrico la zingara, azucena, rivela al Conte di Luna che ha condannato a morte e fatto eseguire tale condanna nei confronti di suo fratello. Sono le solite cose terribili, ma anche profondissime, dei soggetti scelti da Giuseppe Verdi. Immaginatevi Montanelli che sente il suo compagno di stanza cantare a piena voce con un'arte, secondo lui, perfetta, ma Montanelli capiva quasi niente di musica, perché questo va detto, quest'aria meravigliosa. Il suo compagno di stanza al Corriere della Sera era Eugenio Montale, che era incaricato di scrivere il Zeviri, cioè articoli culturali un po' senza capo né coda, e soprattutto di seguire la cronaca musicale, in particolare tutto ciò che riguardava il teatro alla scala, cosa che lui faceva volentierissimo. Da dove gli veniva questa voce, da dove gli veniva questa passione? Considerate che negli anni Sessanta l'uomo aveva per l'appunto all'incirca Sessant'Ana. Adesso non ricordo esattamente l'anno in cui ciò va bene, e le stesse memorie di Montanelli non è che siano precisissime su questo punto. La passione gli veniva da quello che era, come dire, l'humus, il suo strato culturale della buona borghesia italiana di fine Ottocento. Montale nasce a Genova nell'ottobre, pensate voi, il 12 ottobre, per un genovese, città di Cristoforo Colombo è una data un po' particolare, il 12 ottobre del 1895. Durante le estati a Monte Rosso Amare, all'inizio delle Cinque Terre, l'inizio proveniendo da Genova, con i fratelli si divertiva a mettere in scena già all'età di sei, sette anni, opere. Lui dice, fra il cantare queste opere di continuo, travestendosi con quello che trovavano in casa, uno scuola pasta, due tende dismesse, una tovaglia rabberciata, fra questo un pochettino di orecchio esercitato andando continuamente al Carlo Felice e in altri teatri genovesi e aggiunge con la sua consueta ironia, ricordatevelo, sarà sempre uno dei tratti più distintivi dell'uomo montale, del poeta montale, dell'uomo civile anche montale, l'ironia, l'estremo distacco, di non prendere mai nulla fino in fondo sul serio, con tutte le implicazioni che ha. Con estrema ironia dice, fra continuare a recitare sta roba in modi più o meno improvvisati, fra bambini prima e ragazzi poi, andare continuamente al Carlo Felice e aggiunge un paio di broncopolmoniti, mi era venuta una bella voce di basso. La passione per l'opera è fortissima, era un'epoca in cui nella buona società italiana spesso le persone dialogavano a base di battute e di libretti, che conoscevano tutti a memoria, ed era comunissimo in un'epoca in cui non c'era televisione, ma neanche fonografo o giradisti, non parliamo degli strumenti moderni, né tanto meno computer, internet, nemmeno la radio, era normalissimo riunirsi a casa di qualcuno e improvvisare, eseguire un'opera, distribuendo le parti in vario modo. Ma Montale va un po' più in là, perché la passione è molto forte, la passione è molto forte e allora comincia ad andare, non solo costantemente al Carlo Felice, ma anche ad altri teatri, e comincia anche a mostrare un certo talento. Questo talento viene notato, siamo veramente nel pieno del mondo operistico italiano con questi episodi, viene notato da un barbiere. I barbieri a quei tempi, oltre a fare i salassi e a eseguire piccole operazioni dentistiche, erano anche i capi clac. Cos'era la clac? Un gruppo di fan organizzati che a pagamento, ma a volte per passione, non era mai chiaro il confine tra le due cose, andavano a teatro, occupavano il loggione e fischiavano o applaudivano a tutto spiano, a seconda di ciò che amavano, ma anche di quanti soldi aveva ricevuto il capo clac per applaudire o fischiare, per fallire la carriera di questo e quell'altro. Il capo clac poi lo dice, ma tu sei una voce mica male, lo presenta a un baritono genovese, questo a sua volta dice, no, io non posso per carità, lo mette alla prova su un'aria, guarda un po' che aria è, la grande aria di Fiengo del Simon Boccanegra, l'unica tra le grandi opere del repertorio che si svolge per intero, ovviamente a Genova, anche questa di Verde, e lo segnala a un certo maestro Sivori, Ernesto Sivori, era un insegnante del conservatorio di Parma, cioè proprio il tempio massimo della lirica italiana, e per anni Montale si recrà a casa del maestro Sivori a Parma, Parma non è lontanissima da Genova, per studiare. E il maestro gli ordina dei riposi fra una prova e l'altra, ma lui si sgolava, dice, mi sgolavo tutto il giorno per esercitarmi, per andare avanti. Dice esplicitamente che aveva una estensione, niente male, ma questo Sivori gli fa venire l'ossessione di un baritono, a proposito quello che avevamo sentito prima, scusate, era Ettore Bastianini, uno dei migliori conte di Luna mai figurati, in quella che secondo me fosse la registrazione più bella del Trovatore, diretta da Tudio Serafina, con Fiorenza Cossotto, la Stella e il grandissimo Carlo Bergozzi. Sivori gli fa venire l'ossessione di un tal Navarrini, questo mitico baritono Navarrini, ha ancora la tua voce, non può neanche essere paragonata a Navarrini, Navarrini di qui, Navarrini di là. Il ragazzo si terrorizza di desto Navarrini. Quando poi, morto Sivori, andrà a sentire finalmente una registrazione di Navarrini, scopre che era una mezza schifezza di baritono, ma oramai la decisione era stata presa e la decisione era che lo avrebbe abbandonato ogni velletta. In questo percorso però c'è una parte molto interessante, la ritroviamo nel suo diario genovese, nel suo quaderno genovese. dice Montale, io avrei preferito cantare le parti basso, basso, baritono, ma lui diceva che i bassi non fanno carriera. Lui voleva in pratica cantare le parti di quelli che nel Settecento si chiamavano bassi cantanti. Don Giovanni, ad esempio, e Leporello, entrambi, sono bassi cantanti, nella concezione settecentesca. Avrei dovuto fare, dice Montale, la parte di sparafucile dal Rigoletto per tutta la vita, pagato male, in teatri di provincia, e mi diceva, non diventerai mai Navarrini. Piano piano, scrive Montale, mi andavo rassegnando a dire addio alla mia vecchia voce, sottolineo la parola voce, diciamo così psicologica. Non sarei più stato Baris Gadunov, non sarei stato più Gurnematz, uno dei protagonisti del Parsifal di Wagner, non più Filippo II, dal Don Carlos di Verdi. Bisognava dimenticare le note sotto le righe, i suoni sepolcrali dell'Eunuco Osmin, il Ratto del Serraglio, e di Sarastro, il Toto Magico. Il vecchio maestro era fermo su questo punto, e neppure nel nuovo registro mi dava troppe speranze di poter portare un giorno il Fez piumato di Iago nell'otello o il Monocolo e la tabacchiera di Scarpia nella Tosca. Aborriva il moderno, che mi avrebbe trascinato alla rovina. Il mio genere doveva essere il canto tradizionale, Carlo V, Valentino, Germon padre nella Traviata, il sergente Belcore, eccetera. Insomma, tutti i suoi sogni vanno via. Deve abbandonare la sua voce ideale per coltivare la sua voce reale, ma che non gli piaceva, non gli piaceva come repertorio, non gli piaceva come parte. Attenzione, la voce. La voce ideale, la voce reale. E alla fine anche la voce reale non andava bene, poi soprattutto il maestro Sigori muore. Che fare? Capisce che la sua vera voce, non è quella fisica del cantante, la sua vera voce, è una voce poetica, ma ci metterà molto tempo a capire. È una traslazione, quella che succede nella sua vita. Si chiede a un certo punto che cos'è questo impito di sensazioni, di voci che chiede un esito in me. La somma delle mie possibilità, forse. Qui già ritrovate in pieno la poesia di Montale, questo dubbio esistenziale continuo. Forse anche delle mie probabilità, come dice mia sorella. Insomma, perde la sua voce. Perde la sua voce ideale e non trova quella reale. Ma voglio farvelo dire da Montale stesso, preso in un documentario della RAI di fine anni Sessanta, Mentre mangia in trattoria. Il suono non è un granché, dovete un po' acuire le vostre orecchie, cercare di cogliere, perché la pellicola è vecchia. Ma è molto interessante, ci mostra veramente un Montale, al quadrato. Un secondo per la parte tecnica. Siamo con Eugenio Montale a colazione in una trattoria dei vecchi Navigli milanesi. Al tepore dei ricordi, il ghiaccio ufficiale delle interviste si scioglie. Ma tu hai cominciato esordito come cantante da opera di Irica. No, non ho esordito come cantante, avevo aspirazioni in questa direzione. ma la morte del mio maestro è stata decisiva per me, perché io avevo una specie di impegno morale di fargli fare una buona figura, di produrre un allievo degno della sua gloria. Invece, morendo, mi sono disimpegnato da questo... E allora lui sognava di fare di me un baritono molto brillante nel registro acuto, che io possedevo del resto. Avevo tutti i due, avevo il dosso tolleride, l'acuto, avevo una gamma molto vasta. Soltanto mi sarebbero più piaciute le parti... Per esempio? Ah, mi sarebbe piaciuto... Ma queste parti di tradizioni... Mi sarebbe piaciuto Scarpia, il feroce varone Scarpia, che vedo fatto male da tutti. Perché deve essere un grande signore, deve essere un malvagio, ma signorina nel stesso tempo. Invece ne fanno un essere volgare, un malvagio, senza nessuna signorinità. Purtroppo devo rinunziare a presentare il mio Scarpia. Senti, ma sei stato mai... Hai cercato il falcoscenico mai? Sì, ma ho cantato la calunnia del barbiere nel teatro di Feltre, ma il teatro era vuoto. Io avevo dato una mancia al custode per poter cercare quel falcoscenico, però ricordo che siccome non c'era quell'orchestra, naturalmente, la mia voce era veramente tonante e riempiva quel piccolo teatro. La calunnia è un venticello, una uretta assai gentile, che è insensibile, come un colpo di callone, come un colpo di callone, un trevuoto, un temporale, eccetera. Per dire il vero, io non posseggo la televisione, mi sono difeso per lunghi anni. Ora però tra due ore mi manderanno in dono addirittura la televisione, non so in quale parte della mia casa che è piccola in ombra di libri potrò sistemarla, perché hanno creato un comitato locale, qui milanese, di consulenti per la televisione, di cui faccio parte anch'io. Io ho detto al gentile signore che è venuto ad annunziarmi il resto, che non ascolto quasi mai la radio e non posseggo la televisione. Lui si è molto meravigliato, evoluto di questa carenza, di questi oggetti nella mia vita e mi ha fatto avere la televisione che appunto arriverà nel mio appartamento fra due ore. Allora vedremo se io potrò riconciliarmi con questo mezzo di trasmissione, di notizie, di messaggi, come si dice oggi, si riceverò dei messaggi molto interessanti. Così, devo dire che naturalmente è una forma di indiscrezione, di indiscrezione nella vita privata. Ma oggi la vita privata non esiste quasi più. Naturalmente alcuni hanno biasimato la mia mancanza di engagement, così, credo che siano in errore perché ci sono accenni abbastanza espliciti nei miei libri, ma forse volevano che io mi intruppassi, mi ingaggiassi in modo più preciso. Io credo che se tutti fossero engagati nel senso ristretto della parola il mondo sarebbe un serradio spadritoso, molto più feroce di quello che oggi occorre che ci sia anche qualche fune più fuori del serradio per vedere come si svolgono le cose. Montale passa ora all'incontro con Dylan Thomas, il poeta inglese morto in giovane età nel 1953. Venne a trovarmi, ma non venne perché fosse portato da grande amicizia e ammirazione per me, venne condotto dal suo traduttore Luigi Berti, dovevo farmi riconoscere un poeta italiano. Lui però fu colpito da così da un'intuitiva istantanea istantanea e intuitiva, proprio antipatia per me. Quindi giunto in casa mia qualche minuto prima di me o non so, comunque non lo ricevetti io nel momento in cui entrò in casa mia. E lui corse in una camera dove c'era un armadio e si chiuse dentro l'armadio e si rifiutava di uscirne finché io fossi uscito dalla mia casa. Finalmente fu tratto fuori dall'armadio e potrei parlargli un po' con qualche parola. Era naturalmente un molto ubriaco. Poi l'ho trovato in una specie di gargota a Oxford dopo due o tre anni e ricordava vagamente il nostro incontro. Però era talmente ubriaco che quella volta che non ho scambiato alcuna parola con lui. E Samuel Beck? Samuel Beck l'ho incontrato una volta a Parigi. Ma no, 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 no. Io le presentazioni si fanno così, i nomi sfuggono. Credevo che si chiamasse Prickett, che aveva prodotto sia poesia in una rivista di tipo paulidiano che si chiamava The Squater, cioè questo quadrimestre. E dissi, se lei è Prickett, qualora lei fosse eventualmente Prickett, io dovrei aver motivo di ringraziarla. Lui dice, bruscamente, non ha nessun motivo perché io sono Beckett. E come pittore? Ah, la pittura è stata così, una violon d'engro. Io veramente ci tengo molto in un quadrante. Io sospetto che i due quadri un giorno saranno la sola mia produzione, valutata, insomma. Siccome mia moglie e anche la mia gentilissima Gina dicono che nel piccolo appartamento i colori a olio puzzano e poi sporcano soprattutto, mi sono dedicato a dipingere con dei piccoli gesti scolastici, che poi però soffio con uno spruzzatore per fissare. Come avete sentito, l'uomo non si prendeva mai definitivamente. Aveva sempre una visione, come dire, estremamente diminutiva di se stesso. Ma la realtà è che lui pensava attraverso la sua voce, la voce naturale, quella con la quale si parla, si canta, e che era bella, e che rimase bella fino in fondo, di trovare il modo di esprimersi fino a che non capì che probabilmente, come ho già detto, la sua voce doveva essere traslata, doveva essere di altro tipo, non fisico, eppure gli rimase quest'amore come gli rimase l'amore per la musica. E quello che io vorrei dire in questa breve conversazione, soprattutto quanto la musica sia stata formativa per Montale, non solo per il giovane Montale, perché prevalentemente vi, anzi quasi esclusivamente, vi leggerò poesie del giovanissimo Montale, i primi versi di Montale, ma per Montale in generale fino alla fine della sua vita. Nel suo quaderno genovese dice esplicitamente che una impronta fortissima fu per lui sentire nel 1917, in piena Prima Guerra Mondiale, al Teatro Carlo Felice, un'esecuzione di due pezzi per pianoforte. Il Claude Debussy, che era semi sconosciuto in Italia, al di fuori dei circoli strettamente musicali, di compositori e di critici aggiornati, non ce ne erano neanche poi tanti di critici aggiornati, anche se Debussy veniva eseguito e le sue musiche venivano anche vendute, le sue partiture in tutta Italia. e il pezzo che più lo colpì fu quello che vi faccio ascoltare ora. Entrambi i pezzi in realtà venivano da, vengono dalla prima raccolta dei Rélud di Claude Debussy. Questo si chiama Minstrel, ovvero semplicemente Menestrel. L'esecuzione è quella di Arturo Benedetti Michelangelo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Montale scrisse una poesia che si chiama proprio Mistrel che scrive poi da Claude Debussy. E la leggo. ritornello, ritornello, rimbalsi tra le vetrate d'affa dell'estate. Acre groppo di note soffocate, riso che non esplode, riso che non esplode, ma trapunge le ore vuote, lo suonano tre avanzi di baccanale, vestiti di ritagli di giornali, con strumenti mai veduti, simili a strani imbuti che si gonfiano a volte e poi si afflosciano. Musica senza rumore. Musica senza rumore che nasce da rumore che nasce da rumore e si tratta di ritorno e si colora di tinte o scarlatte o rabbiade e inumidisce gli occhi, così che il mondo si vede come socchiudendo gli occhi nuotarne il piotto. scatta, ripiomba, sfuma, poi riappare, soffocata e lontana si consuma, non sode quasi, si respira bruci tu pure tra le lastre dell'estate, cuore che ti smarrisce ed ora incauto, provi le ignote note sul tuo flauto è, nelle parole di Montale, un tentativo di ricreare quello che la musica di Debussy aveva dato questa musica così sincopata, così piena di ritmi curiosi così forte, così fatta di disgiunzioni apparentemente cioè di discorsi che cominciano, si interrompono poi ne irrompe un altro, poi si riprendono e che in realtà seguono un'architettura, un percorso molto preciso perché in Debussy nulla è a caso una volta cui scrisse, mi rimproverano sempre di non avere colonne portanti dentro la mia musica ma io le colonne ce l'ho, e come? Solo che le ho resi invisibili altrimenti la sua musica sarebbe stata una successione di impressioni qualunque e vi fu un altro brano dentro dentro quel quel concerto del 1917 che colpì moltissimo Montale e questo brano sempre dal primo libro dei preludi di Claude Debussy lo ascoltiamo immediatamente è Le colline d'Anacapri due parole di spiegazione non è una descrizione impressionistica della delle colline di Anacapri Debussy era stato varie volte a Capri la prima nel 1880 se non sbaglio a seguito della baronessa Nadieshda Folmec la protettrice di Tchaikovsky la mecenata di Tchaikovsky che lo aveva ingaggiato perché gli suonasse musica durante l'estate poi scrisse questo pezzo nel 1901 la pubblicazione è del 1910 sono le sensazioni che il paesaggio di Anacapri gli aveva procurato a essere ricreate in modo allusivo attraverso i suoni della musica sempre Arturo Benedetti Michelangelo di San Bernardino a essere ricreate in più a essere ricreate in modo allusivo vicino Grazie a tutti. 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 Ecco, dopo l'ascolto di questo pezzo, Montale scrive di essere rimasto travolto, scioccato da queste cascate cristalline, scintillanti di note, di tarantella che si sovrappongono ad accordi che creano un spazio armonico aperto, completamente diverso da quello solito, dove non ti aspetti che non ti aspettino, dove non ti aspetti che dopo quell'accordo ne venga un altro e che quest'altro si risolva in uno che chiude il discorso. Si apre si apre qualcosa di nuovo, eppure il senso della forma è ancora forte, eppure non c'è una sperimentazione totale verso forme di musica che fanno a meno della tonalità e della melodia. Ecco, tutto questo colpisce moltissimo Montale, al punto che scrive nel suo quaderno genovese, ma forse anziché cercare di cantare come un baritono e scribacchiare qualche poesia e mettere su qualche quadretto, dovrei dedicarmi alla musica assoluta. Poi capisce che anche quella non è la sua strada, ma è la fonte di ispirazione. Allora, vi ripeto, una struttura che c'è è molto forte, è molto piena di reminescenze di tutta la tradizione passata, ma un'architettura libera, l'apertura di nuovi spazi, un repertorio di suoni e di parole che è familiare, ma che è rimesso assieme, ricostruito in un modo interamente nuovo, l'assenza di ogni soggettività emotiva, di ogni abbandono romantico, di ogni espressione eccessiva del cuore. Ecco, tutte queste cose colpiscono fortemente Montale, è già lui. Io vedo che il tempo scorre. Le suggestioni musicali nelle sue poesie, all'inizio e alla fine anche, sono enormi. I riferimenti continui, a volte nascosti, a parti di opere, a lavori contemporanei. Fu il primo a recensire un'opera fondamentale del Novecento, ma questo faceva parte del suo lavoro di giornalista e di critico, La carriera di un libertino, di Igor Stravinsky, sul libretto di William Oden, The Rake's Progress, è il titolo originale, e gli piace moltissimo, seppure con alcune riserve critiche. L'assolo di Corno inglese, all'inizio del terzo atto del Tristano Isotta, del Tristan und Isolte, di Richard Wagner, che gli suggerisce una delle sue prime poesie, prima tolta da Ossi di seppia, poi reinserita, poi rivista Corno inglese, non a caso. Intere poesie che si chiamano Sonatina, con riferimenti espliciti a Ravel, sia nella forma, sia nel tono che nel modo. Quasi una fantasia, ovvero la sonata Quasi una fantasia, opera 27, numero 2, cosiddetta Chiardi Luna, di Ludwig van Beethoven, della quale riprende alcune particolarità formali. Insomma, è un continuo, come posso dire, gareggiare, competere, riecheggiare quanto avviene nella musica, come fonte di ispirazione per la poesia e non il contrario. Anche se alla fine della sua vita avrà a dire, in realtà, è la musica, come anche l'arte visiva, inseguire la poesia e non il contrario. Ma a parte questi discorsi, che probabilmente lasciano un po' il tempo che trovano su quale sia l'arte che è il primato sulle altre, avete avuto già modo di sentire, in Mistrel, il valore fondamentale del suono e del ritmo nella poesia di Montale. Non ve l'ho fatto, come dire, non ve l'ho sottolineato prima della lettura, perché volevo lo assaporaste da voi. Ma ci sono altre poesie nelle quali questo emerge in maniera fortissima. Innanzitutto quella, forse sua, più celebre, perché in tutte le antologie scolastiche, cioè anzi lui lo lamenta, Montale in un'intervista diceva che è strazzo, ma magari non l'avesse scritta quella poesia che è finita su tutti i libri di scuola, poi i ragazzi dicono che non è bella, che c'è un brutto suono, e i professori li costringono a imparare la memoria, e poi i ragazzi mi odiano, insomma, si tratta di questa. E sicuramente la conoscevi. Ma cercate di apprezzare quanto l'uso attento delle parole e del ritmo rievochi le immagini che già nel suono rievochi quelle immagini che sono presenti in questa poesia. Merigiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serra. Nelle crepe del suolo, sulla veccia, spiar le file di rosse formiche ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di muscoli ducchi. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare, mentre si levolano tremoli scritti di cicale dai calvi putti. E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia, com'è tutta la vita il suo travaglio, in questo seguitare una muraglia che ha in cima «Cocce Luzzi» di bottiglia. Questo merigiare pallido e assorto, non autico, come si prende il primo verso, è in realtà uno dei più forti esempi di poesia onomatopeica, cioè dove il suono delle parole rievoca le immagini che vengono usate all'interno della poesia italiana. E a proposito di comunanze poetiche con la musica di quel periodo, sempre in ox di seppia, c'è il girasole. Portami il girasole che io ho tra pianti nel mio terreno bruciato dal salino e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giornino. Tendono alla chiarità le cose oscure. Si esauriscono i corpi in un fluire di tinto. Queste in musica. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapore alla vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce. Questa idea che le cose oscure divengano chiare, che i corpi divengano, si stemperino in un fluire di tinte. Cioè quanto vi è di più materiale diviene una serie di tinte che trascolorano l'una dell'altra. Che queste tinte divengano musica. Cioè si parte dal materiale e si finisce al massimo dell'immateriale. Si parte dal corpo che diventa tinta, tinta cangiante, e questa tinta diventa musica, suono, quindi quasi immateriale. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Torna quella perenne ironia e incertezza esistenziale di Montale. L'incertezza e l'impossibilità di definire l'esistenza. Ma potentissimo è il richiamo alla musica come immaterialità che trascolora tutto. E anche se lui non ne ha parlato mai, questa poesia a me fa venire in mente proprio un altro dei preludi di Claude Bussi, sempre dal primo luid libro, quello del 1910, ovvero Le sonne, le parfume tournons de l'ère du soir, titolo difficile da tradurre. I suoni e i profumi trascolorano, si cangiano l'uno nell'altro nell'aria della sera. Quindi anche qui abbiamo un tragitto che va da un elemento scarsamente materiale all'immaterialità assoluta. In realtà è il titolo di una poesia bellissima di Charles Baudelaire all'interno dei fleurs du mal, dei fiori del mal. E Debussy riprende la struttura astratta della poesia e la riproduce in una struttura musicale aperta, indeterminata, ma in un modo precisissimo, con degli accordi aperti e delle sonorità aperte che a volte sembrano jazz degli anni Sessanta. Con questo pezzo chiudiamo e poi do spazio alle domande. Naturalmente è sempre Arturo Benedetti Michelangeli. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.